Tiene banco nella politica cittadina la questione del presente e del futuro della Biblioteca Sata, il cui destino è al centro di uno scontro istituzionale tra Comune di Nuoro e Regione. Un conflitto che ha le sue radici nella legge di riforma degli enti locali che ha posto la Biblioteca Sata e il Museo Man sotto leggi della Regione. Questo nonostante l'opposizione del Comune. Nelle more della fase transitoria, però, la Biblioteca Sata è precipitata nell'ennesima crisi finanziaria dovuta al fatto che province e comune, per ragioni diverse, non hanno ancora ottemperate al versamento delle quote che aspettavano loro in quanto membri del Consorzio di Pubblica Lettura. La conseguenza per la Biblioteca Sata sono conti in rosso, con ripercussioni pesanti sul suo funzionamento e sui dipendenti. Come sottolineato dall'Acceso di Funzione Pubblica, il rischio è che siano i propri dipendenti a fare le spese di questo scontro istituzionale. In queste ore sono circolate diverse proposte per dare un futuro alla Biblioteca Sata. L'amministrazione comunale ha avanzato l'idea di liquidare il Consorzio e trasformare la Biblioteca Cassata in un ente comunale col passaggio sotto legge del Comune e di una parte dei dipendenti. Una proposta su cui interviene Francesco Manca, segretario cittadino del PD, che la boccia senza appello. L'esponente politico sottolinea il fatto che da un lato il Comune non mette soldi nel Consorzio perché dice di non averne più titolo, dall'altro invece intende liquidare il Consorzio stesso. Il segretario del PD Nurese chiede anche come farà il Comune ad assumere i dipendenti della Biblioteca se è soggetto per legge, come tutti i Comuni, all'obbligo di riduzione delle spese di personale. O a farsi direttamente carico dei costi di gestione di un nuovo ente, conclude Manca, se non riesce neanche a mettere in sicurezza gli edifici di sua proprietà, a cominciare dalle scuole cittadine.